E' tanta voglia per tutti ragazzi, qui è Derp che vi parla. Prima di mostrarvi il bug velocemente voglio ringraziare lo staff di Wagna per avermi dato questa grandissima opportunità e anche per il lavoro che fanno nei nostri confronti. Detto questo vi parlo subito del bug. Il bug consiste nel camminare sotto le acque dell'oceano di Los Santos senza morire. Questo video è il primo video del mondo che mostra il bug in questione, tutti gli altri sono registrati senza l'utilizzo di Game Capture e o non spiegano nulla riguardo. Bene, ora vediamo dove si trova e come funziona. Il bug si trova in un canale del porto a sud di Los Santos dove poi indicherò il punto sulla mappa. Innanzitutto dovrete stare su una macchina qualsiasi, andare dentro l'acqua fino a toccare il fondo. Uscite dall'auto solo quando vi manca pochissima aria e quando risalirete in superficie il vostro personaggio cadrà a terra come se l'attrito dell'acqua fosse scomparso. Non può essere lag perché se lo fosse dopo un po' sareste affogati e funziona anche se cambiate sessione del gioco. E una volta usciti dall'acqua non dovrete rifare tutto quanto il procedimento. A piedi potrete raggiungere il confine dell'oceano pacifico e addirittura uscire fuori dalla mappa per una decina di metri. Superati questi ultimi il gioco vi teletrasporterà automaticamente sul luogo casuale. Ora vi lascio vedere il tragitto fino alla fine del mondo. Grazie a tutti. Ritornando a noi il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale di Wanya. Se vi va fate una visitina al mio canale. Faccio troll divertenti, alternativi e fanpage su tutti i giochi possibili. Infine faccio tutti i miei complimenti a Wanya e auguro che arrivi alle vette più alte di YouTube in pochissimo tempo. Quindi per questo video è tutto. Alla prossima!